Ragazzuoli, questo qui è uno dei video più belli del canale. Io vi lancio una sfida, 10.000 mi piace in questo video e pubblicherò il video dell'intervista a Queen Tupla che ho fatto con i ragazzi del team. Ovviamente eravamo tutti insieme nella stessa casa a fare la World Cup, è stata una roba incredibile. Quindi ragazzuoli, 10.000 mi piace, vi lancio la sfida e vi pubblicherò appunto l'intervista che fa pisciare sotto alle risate, fidatevi, è una figata. Iscrivetevi al canale, mi raccomando se siete nuovi, guardatevi il video. Ragazzuoli vi lascio in descrizione il link per acquistare le magliette e i tappetini del team, saranno XXL e RGB, una figata incredibile. Cliccate il link e fidatevi, se vi doveste acquistare qualcosa, taggatemi su Instagram, andrea piazza trattino basso, così almeno vi posso seguire, vi metto il follow e riposterò la storia naturalmente. Quindi sono solamente 100 i tappetini, quindi ragazzuoli i più veloci se li porteranno a casa perché sono un'edizione limitata esclusivamente per l'evento che abbiamo fatto appunto in villa con il team. Mi scuso per i problemi di audio che ci saranno, c'erano un po' di eco, un po' di sovrapposizione delle voci, ma eravamo tutti nella stessa studio ed era un casino gestire l'audio, quindi scusatemi, abbiamo fatto il possibile. Buona visione, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mi raccomando, bella boys. Inserite il codice creatore Piaz Provini nello shop di Fortnite per vincere il nuovo mouse della Logitech G502 Wireless. Ve lo faccio vedere qua, che mi è arrivato da pochissimo, però il mouse ce l'ho già, infatti c'è ancora il cello fan sopra, ok? Parliamo di un mouse che è uscito praticamente pochissimi giorni fa, pochissime settimane fa ed è una figata. Ve lo manderò con tutta la confezione, con tutta la scatola, ovviamente è ancora tutto, tutto imballato perché mi è arrivato da pochissimo. Qui appunto sono tutti i cavetti, bla bla bla, e qui c'è il mouse. Ho deciso di lanciare questo contest, ho deciso di prendere spunto da Nezza che ha detto che lo porterà di persona ad uno appunto, alla persona che varrà estratta. Quindi inserite il codice creatore Piaz Provini nello shop di Fortnite e taggatemi su Instagram. Ne strada uno io lo porterò di persona a casa, quindi buona fortuna, bella ragazzi. Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Instant Gaming. In descrizione troverai il link per acquistare qualsiasi gioco e qualsiasi abbonamento. Io ho preso un assalto verde. Ho un player sotto, 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 un player sotto. Ok, ho un combat, io. Ok, andiamo. Spacco qua sotto, spacco qua sotto. Acco lì se lo! Sto spammando. Uno sopra, uno sopra, uno sopra. Fatti uno. Un altro, dai, no. Dai col pin, dai, prendiamo niente, buono. Let's go. No, dai, no. Un po' che pinga altino, eh. Sette, nove, dieci. Si può pingare meno, in realtà. Ottordici. Ti ho lasciato un comodo. Mi eravamo zero prima che il server di merda, vado via. Eh, c'è altra gente. Sono sicura? Sì, sì, sicuro. C'è, c'è, c'è anche, c'è anche le machine, c'è anche le machine. Vai, vai, fattolo. Sì, si fa schifo anche perché, c'è, ci stanno a rilanciare di nuovo e seguo su qua. Sì, ho letto che c'è la configurazione, la metto dopo. Ora devo seguire la volca. Poi cerco, l'unicentro l'ho lottato io. Ah, sto fermando, secondo me. 300 io. No, 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 no. Ma il pump è buono io. Morto quello lì al fatto. Bravo, io ho fatto doppio 25. Ah sì, però lo può restare. C'è un po' di solitarlo, non so. Non trovo nulla per curarmi, però mi sa che devi venire qua. Ma non ti pusha nessuno io. Mi sa che c'è gente al centrale dove c'è il garage. Hai scudini, hai scudini. Uno. Eh, dammelo veloce. C'è uno qua. Sto buttando lo scudone. Bravi raga. Trico, tentate al compagno. Tre punti già. Uh, perfetto. Quattro punti. Let's go boys, bravi. Ho missato, scusate. Beh dai, quattro punti. Sì, stanno qua. Sopra, 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 sopra. Vediamo come se la giocano. Sopra, sopra, sopra. Gli hanno il tattino i sacco, le granate. Io poi gli scioio i mazzi. Tu hai più vita. Se puoi salire, ti seguo. Tieni, tieni, tieni il mio pompa. Tieni, trai, trai. Sto arrivando. Tieni. Hai band, nove. Sono arrivati agli altri. Nice. Sopra, sopra, sopra. Sopra, sopra, stanno ripiazzando noi, eh. What's up? Ah, qua sotto. Sotto, sotto di noi. Sotto. La vogliono prendere? Lo tengo sotto. Tutto mio. Ah, qua sono. Ah, io non ho il pompa. E senza salire, da dietro. Quattrocento fps, duecenti, quindi, merda, 21, 21. Gli altri stanno pingando 80, gli altri, allora, se si pinghiamo noi 21. Da qua possiamo bandare? Sì, qua. Eh, dobbiamo, mi sa. Se noi pingamo 21, gli altri pingano 80. Edito in casa, eh. Non sto pronto a pompare. Io mi nascondo. Apriamo il tedito. Posso il colpio di pompa? Tieni. 66, dai, vai, sei esatto. Andiamo via? Eh, dobbiamo. Dove andiamo? Nero? C'è un prato. Eh, c'è qualcuno dentro. Io sarò nero. Blade, cazzo. Doppia kill di Donny, 4 kill, mamma mia. Animale. Locato Andra. Donny, numero 1. Eh, loro ce l'avevano. Oh, c'è un kit. Ok. Mi dirò il kit, eh? Sì. Sì, me lo dirò, me lo dirò. Jump, eh. Vado a prendere quelle due cure di squadra. Ci sono le bendine, ci sono le bendine. Sono andando a prendere due cure di squadra. Ok, prendi, eh. Nice. No, ma non ci sono più. C'è un altro kit qua. Lo vuoi prendere? Eh, ho 5 bend e uno scudone. Ok. Dove ottenere bend. Andiamo. Massi bene, eh? Sì. Parlerò poco, raga. Non è come a casa mia, qua. Mi sentono se parlo troppo. Sì. Sei fai, lontanissimo. Lontanissimo. Tira di le bend. Io vado dritto in safe. Ci arrivo. Mi metto con una benda prima di rifiutare. Sì, sì. Due, sì. È pure un cane, ma che cazzo? Andre non si vede, ma... Eccolo, 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 Andre. Ok. Sono faiando qua davanti. Ok. Ci potremo li affettano tranquillamente, non so, dimmi tu. Che cosa si può fare? Mmm... Sto' birfetando proprio. Non vedo che si sveglia. Non vedo, se riesce a rilaterrì a qualche la serata. Ah, sto guardando in safe. 33, 66, one hit, uno. Ok. Va di scala? No, non posso. Ah, Daliandro è da solo, però, riscosissimo. Uh, knock. Safe di merda, comunque, Cristo addio. Ma, l'ho separato! Di nuovo. C'è un kit qua sotto, tra. Ok. Ho avvettato 22 blu. Come so, ci hanno fatto? Ah, un kit da me. Arrivo. Tutti in più. Me lo faccio io il kit. Sì, sì. Dai, stai. Non so, magari, buttarmi a guarda di squadra, non so. Non so, 150. Io non ce l'ho, anche quello di squadra. Ok, offimi. Ha descato di nuovo, Andra, a momenti. Tieni sto sc... Eh, ti do lo scudone. Ok, ok. Però, senza quello arriva. Tieni il mini. C'è la jump di questo? Dove ha jump di questo? Sì, è qua. Vediamo. Ah, c'era un kit. No, no, devo prenderlo. Eh, prenderlo. Ti aspetto. Qua ce n'è altro. Sta pure una palla. C'è una trap. Sì, tu? Splay el davanti. Ok. Che zona del cazzo, eh, ma... Era un'altra jump, dai. Siamo a bordo safe. Fatto. Bravo. Ah, proprio così, easy. C'è una palla, prendila. Se l'ho alleato su quella scala, penso. C'è un nice blue. Prendi la palla e vai. Dov'è la palla? Qua sotto. Reboot, reboot, reboot. Ciao, reboot. Ma mi ha rebutto uno, fra. Eh, ma siamo troppo free safe. Vabbè, ok. Sì, c'è una jump. Sì, c'è una jump, cosa? Sono qua davanti a me. Qua preso. Dai, spingo. Vabbè, questo pink, ora, grazie al cazzo. Questo lo metto... Sì, sì, vai. Lo lascio lì. Non lo lutto. Questa è un HP. Anzi, non lo so. Non un HP davanti, che corre. Ok. 10 punti, raga. 10 punti di kill, nice. Eh, come ci arriviamo? Piedi. Ok. C'è kit? 2. Nice. Ci arriviamo, sì. Senza chitarra. Poi, ma è stato il cazzo che stiamo pingando a 24? Cioè, pingavamo 0, che schifo di serva, mamma mia. Andiamo dagli altri, un attimo, dai. Già, Maurizio, non ho fai dato, l'hanno già ucciso. Molto probabilmente dobbiamo anche jumpar... Che sta parlando? Qua siamo a 0, per ora ancora. Start molto più safe. Torniamo da Andre, Donny. Tieni. Ok. È un casino il reggier, raga, fidatevi. Mamma mia. Sto facendo mille scene diverse, è un casino. Un minico, manco. Sì, sì. Tieni. Oh, tieni. Tu quante ne hai, gli altri tre? What? Ne hai altri tre, di Sato? Sì, sì. Perfetto. Quali si sono a Fall Camper? Vabbè, andiamo. Andiamo a 29, cioè. Una palla qua. Io la prendo, e c'è 150, non capisimo. È bravo, grebo. Ok. Sì, sì, è il primo game. Pochissima gente, poi. Ho abbassato il mio micro, regga, così. Sarebbe delle pedine da prender. Meglio? Ok. Ho un po' abbassato. Te lascio qua. Ti lascio le scinele. Dovrebbe essere un po' meglio. Sarebbe una palla. Ok. Sarebbe una palla. Sto giocando la palla. Yes. Lo s'è nebrato. Ok, andiamo. 857 ha la skin di un coniglio. Lo pusho di palla, lo pusho di palla. Se fai tu butti una sciata, non lo so come vuoi. Nice, perfetto. Eh, mi butto una sciata, sì. Buona già. Butto un altro. Posto, posto, ho fixato il micro. Eh, mi hai detto di abbassare. Usciti? Metto dei blu? Non in. Eh, ci sono ora. Ok, mi sto cittando. Eh, le prende tutte. Nice, buono. One sotto il coniglio. Fatto. Vabbè, scusa allora. Non lo faccio più. GG, bravi raga. Bravissimi. Non dai, così è che si, passi da sola all'inizio. Lo so, lo so. Bravo Tony. Eh, quando questo fosse arrivato, mi hai detto solo se non ho lasciato, ho sbagliato io. Però a botto una cura di squadra, sì. Sì, sì. C'hanno le pallette queste, credo. Sì, c'hanno la palletta in più per te. Nice. Esatto, mi ho sclicato. Dove l'altra? È quella che l'ho lasciata io. Prendi l'arvolo, prendi l'arvolo che è arrivata safe. Eh, se l'ho trovato, sì. La cassa è finita. Poi, sono sceso. No, è scivolata. Allora, questi che fai? No, easy laser, easy laser. Visto, visto. C'è sto un po' po' fermo. Lo sniperi, lo sniperi. Eh, sono top indietro io. Aspetta te, non lo vedo. Eh. Aspetta la pallina. Meglio che agis la partita, raga. Meglio, meglio, meglio. Sti cazzi, meglio. Scusa. Vuoi ripesta qualcosa in sé. Sotto sciato l'hai? Uno. No. Grazie, grazie della sub. E benvenuto. Buona, grazie della sub. Buona fortuna per i provini che facciamo dopo la... World Cup. Dopo la World Cup tutti i sub faranno i provini. Tutti i STR guarderanno voi che giocate. Ci divertiamo, giocherete con loro. Insomma, Sicilia ci si diverte. Tutti gli abbonati. Quindi se volete, cliccate su abbonati. E su inizia la prova gratis. Uno è qua, qua. È riuscito. Lo vedo. Vai sotto il pan di zenzero. Credo un mini? Sì. Vai? Guardi, tu l'ho fatto? Fa di zenzero, guandississimo. Nice. Perfetto. Attento. Quanti sono due scudoni? Uh. Coach, lì c'è un bordello. Lo so. Aspetta che mi stanno sfumando ancora. Anche dietro, sto attento. Io lascio l'ho lasciato. Grazie, collaggiano la sabbia. Buona fortuna per dopo, bro. Dai, 100%. Impegnati. Si vola. Ho preso due scudoni, ho portato un mini. Vieni. Stai cura di squadra sono bellissime, davvero. Si, si dà un fastidio, ma è l'unico modo. Ah, è niente. Fisci. Possiamo andare che io ha qualcun altro volendo. Sì. Va bene, non ho senso. Fisciam. Ci conviene prendere un po' di punti di placement. Faccio vedere un po' all'inquadratura. Purtroppo ho scelto i cuscini ora perché preferiscono che sia più brutto ma che sia più utile così non si sentono mentre parlano, mentre urlano un po'. Meglio così va bene. Che non sia bello ora. Prima era bellissimo da vedere, ora un po' meno musti, cazzi. Sponso un po'. Questi hanno le balle. Ok. Grazie dell'adorazione, l'occellina. Grazie mille, brate. Davvero, grazie di qua. Sì, sì, qua. Poi, chiamiamo queste. Ah, no, grazie della sub, Gian. Grazie mille, brate. No, 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 no. No, vissi. Mi è sotto. Mi è giusto. Capaglia qua davanti. Apri? Edito? Gianca, Gianca. Vai, nice. Uno. Ti scopo la seconda. Yes. Stavo distruggendo l'altro, vessi. Sono qui, vola. Nice. Dammi una jump. No, ce l'ho. Vabbè, dammela. Vabbè, dammela. Tieni. Palle e movement. Easy. Sì, fate bene. Ti lasciamo qua. Fatto. No, attento per capire. Eh, nemmeno, ci ho capito, ma qua stanno a far devassa. Fatto. Ho lasciato qua qua qua. È distrutto. Oh mio Dio. Oh mio Dio, cosa ce l'ha fatto? Fendi sto jump. Qua ci sono sei mini. Stavo guardando boost. Ok. Guardiamo l'handgame di boost un attimo, raga. Morto? Hai cuore di squadra? Per ti armi una? Ho dei gran mini. Bruttissimo audio boost. Io c'ho un botto di maz, comunque. Guarda questo. Zero hit. Scendo un po'. Scendo un po', sì. No, non troppo. Dai, collego. Ancora meglio, ancora meglio. Collegato così. Tanto non credo abbiamo ancora... Qua c'è ne uno. Qua, qua, qua. Qua sono lì, mazzo. Vado a prenderli, vado a prenderli. Occhio che ne hai una fiamma. Sì, sì, è posto. Morto uno. Brava. Perfetto. Quei punti sono messi bene anche loro. Vado qua a fianco. Ok. C'è uno dietro che mi ha effetto. In effetto, bianco, bianchissimo. Perfetto. 2v2. Distrutto? Bravissimo. 2v1. Voi sei vinto, in teoria. Riplessiamo? In teoria ha 21 punti. Vado in 3-5. Qua. 72. Distrutto. Quanti kill avevi? Bello. 8. Lo sto facendo. Mi hanno hittato. Nice. Ok. Fatto cadere uno. Fatti, 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 fatti. Ok. Mamma, mi ho del forzo. Nice. Seus ha lasciato tu, eh? Sì, sì. Mi collego qua, io. 36 v2 ad uno. Alla mia stessa skin. Ok, ho capito. Office high. Ho collegato. Attento che io. Possono fare tanto. Speriamo in bene, raga. Lasciato? Lasciiamo, lasciiamo. Questa non è lasciato. Attento che quella cosa è hitta. Sì, sì. Mi sto andando a collegare qua. Collegato. Lasci, la cerchia di serà, non so. Proprio 36 v2 ad uno. Fatto, fatto. Mamma mia. Ok, ok. Io sto buildando un botto per non far hittare. In teoria così stiamo tranquilli. Tieni il suo scudone. Dai, dai, dai che vado a chiglia sotto. No, quanti punti stanno farmando? Mi hanno hittato. Ah, basta sta roba. Ok, sali. Devastante, sì, sì. E sotto quello, 3,2, 33? Build, devo farmi uno scudone, build. Ok. Nice. Un'emotra, un'emotra, un'emotra. Perfetto. La shield, quello là, 3,3 di bianco anche? Sendo un po', leggermente. Ok. Un po' più di 20 bianco a questo. Una per kill. Ah, ah, un brato, un brato. Mamma, quello. Sto cercando. Stanno entrambi sotto, tutti sotto. Sto cercando. Ma il so, qua ci distrugge. Qua, c'è uno. Fugliabili, insomma. Nice. Trovi una, vi una. Ok, ok. Trovai una, vi una, siete? Trovai una, vi una. Trovai, tra zitto. Qua, c'è uno. 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 La carico questa avete fatto una roba stupenda guarda in alto sempre guarda tu guarda tu Sì, 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 guarda Non ho fatto a piccare io sotto Non ho fatto niente Ha riftato Ha riftato? Sì È uno Ok, è sceso Vabbè, che fenomeno Sì, veramente Faccio un follow Dai ragazzi Sto spommando dentro a casa Ancora una shadow io Non giù Pa 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 Hs Ragazzi a contatto mi stanno facendo impazzire Anche loro comunque 16 punti Sarebbe male 3 win Non sarebbe male Sarebbe qui I due nabi Sì, siamo vinto a tutti e due Avete vinto per ora Mancano loro Vediamo 2v1 sono In teoria dovrebbero farcelo Se non fanno cazzate Perfetto 3 win su 3 Bravi raga Bravi raga Bravi raga Bravi raga Bravi raga Ti ha bughe Ti ha bughe Ti ha bughe Ti ha bughe Bravi Bravi Chi era partita male questa Cosa hanno fatto? Sì, era partita malissima Avevamo un cazzo Fatto tutto le kill E' apposta Tu devi devi darti una carmata Cazzo Sei un cazzo di bo Ma cazzo Tu cazzo è bo Era partita malissima Come cazzo ha fatto? La malissima è di simile La malissima è di simile Grazie Grazie La malissima è di simile La malissima è di simile La malissima è di simile Grazie Vi saluto Grazie.